Iniziamo. Andiamo a vedere dentro. Qui dovremmo fare un ascensore. Il nostro comitente ci ha richiesto qui l'ascensore e qui fare questo solaio. Abbiamo il problema dell'umidità, l'umidità che si infiltra qui, si vede appunto la vena d'acqua. Qui abbiamo la strada e dobbiamo capire cosa fare in quella parete lì per rendere questo locale per una scala abitabile. Queste strutture che possono portare il carico del solaio sopra e che possono convivere con questa umidità. Nelle prossime puntate andiamo a vedere come faremo cosa abbiamo scelto per risolvere questa situazione qui. Queste cose si risolvono grazie all'incontro tra i progettisti e l'impresa locale dove ha già affrontato queste situazioni qui. In base all'esperienza, in base a nuovi materiali, vedremo di sistemare questo punto delicato.